Bella a tutti signori e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con i nostri gamberetti Signori, allora, prima informazione ancora prima di partire con tutto il video Allora, ho cambiato nuovamente tipologia di video, l'ultima volta abbiamo iniziato facendo le simulazioni Poi siamo passati a fare la sintesi delle partite Oggi, considerando che le partite io me le devo giocare per farvi vedere la sintesi Faremo la sintesi e la farò io direttamente, signori, me la giocherò Taglierò i pezzi magari più importanti, come diciamo, fanno la maggior parte di Youtube Taglierò i pezzi magari più importanti e farò una sintesi fatta da me Spero che questa modalità vi piaccia di più rispetto alle precedenti Detto questo, signori, prima di partire il video vi ricordo di iscrivervi al canale Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che è dato alla serie Vi ricordo di iscrivervi sui social, mi trovate sia su Instagram che su Facebook come Maullo941 In cui vi aggiorno su quando escono i video e su quando siamo in live Sia su questa piattaforma che sull'altra E infine vi ricordo di guardare in descrizione, trovate sia i link per poter fare le azioni col canale Ovvero donazioni e abbonamenti, ossia i link dei canali che mi sono i miei abbonati In cui, se volete, potete fare un salto da loro e vedere i loro contenuti Detto questo, signori, non perdiamo altro tempo e partiamo con il video Allora, noi stiamo facendo un cammino in campionato che è terribile Oggi abbiamo la partita di coppa La partita di coppa dobbiamo riuscire a portarcela a casa per forza Allora, non facciamo lo stesso errore che abbiamo fatto l'altra volta con l'ipswitchdown, signori Andiamo su gestione squadra, ok E vediamo un attimino, allora in porta facciamo giocare Lowry Così ogni tanto piglia punti anche lui Da questa parte gioca Mellor In difesa facciamo tornare Clark, è un poco stanco Quindi facciamo giocare i vecchi titolari, ovvero Davis e Lavelle Sulla sinistra torna Stevens, Giardino va bene A centrocampo giochiamo Sulla sinistra mettimi... no, Cantè no, per cortesia Ehm... non mi sono portato L'ho preso il... ok, Mooney Moon, Moon, Moon ce l'abbiamo Allora, leviamo... leviamo Kanon Che non è molto... che non gli piace questa posizione Facciamo giocare Moon, facciamo esordire il... il Giovincello Che tra l'altro sta cambiando ruolo Dovrebbe diventare tra l'altro non so quanto un CC Wilting lo teniamo titolare Sullivan va bene E qua direi di levare Stockholm Andiamo un turno in riposo e gioca Scott Così cresce anche lui E McAladino Giochiamo con Aladino Va bene, io direi che questa va bene come formazione, signore Per affrontare il All City Che ci... ci prenderanno a pallonate Però, noi ci proviamo, ci proviamo, signori Andiamo in campo Ci siamo, signori Si parte, Mooney Camp e All City Secondo turno di Carabao Cup Noi veniamo da un pareggio E due sconfitte in campionato Ci siamo messi proprio male, signori La vedo proprio male quest'anno Però ci proviamo, ci proviamo Siamo passati dal simularlo Attenzione, attenzione Sullivan, 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 Sullivan Sullivan, Sullivan Dai, 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 dai Nooo Che cazzo è successo Subito, così, in partenza Nooo Insomma, uscita di pochissimo Non di tantissimo Però va bene Ci hanno Harry Potter, questi, signori Ci hanno Louis Potter Che ci farà le magie su quella fascia, sicuro No, me l'aspettavo peggio No, ecco, appunto Perché io parlo? Perché io partiti? Eccolo, bravo così Aralo Aralo, grande Mellor Grande Mellor Grande Mellor Grande Mellor Ti sei preso un cartellino giallo Ma chi? No, no, neanche il cartellino giallo Va bene così Punizione per loro Punizione per loro Buttiamolo fuori Buttiamolo fuori Buttiamolo fuori Buttiamolo fuori Buttiamolo fuori Buttiamolo fuori Fermalo Fermalo Uccidilo Colpiscilo Sparagli Signori Mamma mia Madonna mia Mamma mia E stavolta mi sa che il giallo arriva Sì, sì, sì Sì, attenzione Chi è? Stevens Stevens Esce Spike Ma come cazzo Allora la prendi Spike Dai, 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 dai Signori Occhio con gli interventi Discivolata Occhio che Stevens è già munito No, no, no Grande Spike Ah, no, è Lorai in porta Ce l'orai Ok In porta ce l'orai Vabbè, vabbè Va bene, io l'ho chiamato Spike tre volte Va bene, va bene Non fa niente Uh, uh Attenzione signori Wilding, Wilding, Wilding Wilding Sullivan Sei in fuori gioco Brutto, cretino Che stanno a fare questi due? Fermati, fermati, fermati Fermati, fermati Wilding Sullivan Sullivan per Scott Scott, Scott, Scott Scott Vede buone movimenti di Sullivan Ah, ma che tiro ha fatto Attenzione loro sulla fascia Stevens non può intervenire Perché Ma che, come cazzo La Come l'ha presa Come l'ha presa Ma dai Cioè, era in pieno possesso del pallone L'ha tirata fuori lui Calcio d'angolo per loro Attenzione fuori sta palla Signori Mamma mia Grande Lorai Grande Lorai Grande Lorai Dai ripartiamo Dai ripartiamo Sullivan Oh Sullivan Oh Sullivan Oh Sullivan Dai 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 Parti su quella fascia Oh si Oh si Sullivan Sullivan mio Dai dai vattene sali Grande Sullivan Che si andava sulla fascia Grande Sullivan Dai 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 Guardalo Guardalo No Ma perché così brutto Dai 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 No signori Io mi emoziono per niente Mi emoziono per niente Grande azioni E poi sbagliamo In maniera assurda Dai 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 Crediamoci Crediamoci Però crediamoci 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 1-2 1-2 Wilding Wilding provaci Provaci Wilding Va bene Calcio tangono Calcio tangono Calcio tangono per noi Calcio tangono per noi Dai 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 Sullivan Sullivan la gioca per Giardino Giardino ha il tempo di girarsi in Giardino Non ci provo Ma come l'ha presa Ma come l'ha presa Ancora calcio tangono per noi Dai 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 Siamo in un momento buono Sullivan Sullivan per Giardino Ancora Giardino Questa volta la passa Giardino No Chi l'ha tirata così Così brutta Lavandino Ahia Harry Potter Harry Potter su quella fascia Harry Potter su quella fascia E questa volta Mamma mia Stavolta Chi è? Lavandino Lavandino o vasella? No vasella non gioca Chi è? Lavandino No Ok Solo richiamo verbale Va bene Va bene Va bene Va bene Aia 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 Fuori questa palla Buona così come Ma po- No 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 signori L'abbiamo lasciato Mamma mia Che intervento Bellissimo Non so chi Chi l'ha fatto Ma sei un mito Guarda 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 Sullivan Guarda Sullivan Guarda Sullivan Oh è fallo Albitro Va bene Vantaggio per noi Anche se mi devo dare fallo Vai Sullivan Vai Sullivan Che sta facendo i sfracelli Su quella falsa C'è Sullivan 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 1-0 Chi ha segnato Col 19 Chi sei Aladino La sblocca lui Ma io così Mamma mia Grande Sullivan Ho mandato al bar Il proprio marcatore Grande Sullivan 1-0 Grande Sullivan Bell'assist per Aladino 1-0 Dai che andiamo avanti Signori Dai che passiamo il turno Ci credo in questa coppa Signori Ci credo Ci credo Allora Primo tempo è andato Signori La squadra è buona Io non farei nessun cambio Nessuna cosa particolare Va bene così Scendiamo in campo Per il secondo tempo E vediamo Vediamo cosa succede Scott Scott Vede il movimento Di giardino 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 Sulla fascia Vediamo se li vede Scott Libero Scott Non ci arriva Si è fatto anticipare Di pochissimo Mannaggia Ascoltino Di migliorare tanto Paris Saint Germain Ha comprato Gimenez Va bene Va bene Occhio signori Signori concentrati Stiamo vincendo solo 1-0 Noi stiamo vincendo 3-0 Che ci possiamo rilassare Stiamo vincendo solo 1-0 Concentrati Concentrati Teniamoli 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 No Dove sta andando quello Bellissimo L'anticipo Leva gliela però Leva gliela però Non gliela lasciare lì Spike Va bene Il nostro Luna Signore Il nostro Luna Il nostro Luna La vede bene Giardino sulla fascia Sulla fascia Giardino Che fa fuori Il suo diretto avversario Giardino 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 Neanche caccia d'angolo Si è preso Mannaggia Dovevi buttarti malamente Il nostro Moon Il nostro Luna Lo chiameremo Luna Signora Moon Amy Mi viene troppo Troppo complicato Da chiamarlo Chiameremo Luna Il nostro Luna Che al centrocampo Sta facendo bene Bello questo anticipo Dai Dai Crediamoci Crediamoci Signori Crediamoci 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 Calma 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 Bravissimi Aladino Aladino Giardino Parti su quella fascia Bravo Giardino Che si fa vedere Dai Giardino Guarda 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 Ma perché sbagliamo così Signori Allora Facciamo dei cambi Facciamo dei cambi Facciamo dei cambi Allora Stevens Su quella fascia Non corre Signori Quindi facciamo levare Stevens Ed entra Vasera Lo può fare Non penso Che Vasera Lo possa fare Quindi mi devo tenere Stevens Va bene Mel Gibson L'abbiamo lasciato In banchina In difesa Va bene così Io leverei Semplicemente Aladino Anzi dai Leviamo Scott Mettiamo Stockon E Diamo un turno Di riposta Guilding Signori Facciamo entrare Diagurara Mamma No Diagurara Non ce la faccio Non ce la faccio A fare entrare Diagurara Signori Dai Dai Ripartiamo così Unica cambio Che abbiamo fatto Scott per Stockon Diamo più Più freschezza Lai in attacco La squadra E' messa bene Bravo Giardino Bravo Giardino Guarda Stockon Bravo Guarda Guarda Ladino Guarda Ladino Che riguarda Stockon Che si ferma Bravissimo Vai Giardino Parti Bravo Giardino Che però Sei chiuso Sei chiuso Giardino Tienilo Tienilo lì Mamma Dio Giardino mio Dai Occhio a loro Occhio a loro Fermalo E guarda Stevens è lentissimo Stevens È un terzino È più lento di tutto Mamma mia Meno male che hanno sbagliato loro Meno male che hanno sbagliato Sullivan Per McGree Va bene dai Anche se su quella fascia Non ci giochiamo molto Però va bene Sullivan per McGree Calma 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 Lavandino 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 Per Stevens Stevens è di una lentezza paurosa Stevens che parte Stevens che parte senza motivo Però Giardino Arriva con un rimpallo Buono 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 Oh è fallo Albitro è fallo Buono così signori Fallo l'ottantunesimo Va bene Va bene Wilding per diagurare Non ce la faccio signori Allora io le punizioni Non le so tirare Vediamo cosa succede Vediamo cosa succede Fase potenziamento Tiro Va bene Scendere a giro Mista Maledetta Va bene Tempismo Prima quando l'indicatore Si stava nella zona Verde Poi signori Proviamo a metterla qua Se riesco Cosa non si fa Pier Per portare a casa La vittoria I tifosi ospiti Logicamente Rumoreggiano Uh Troppo 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 Non c'ho capito niente Di che devo fare Però va bene L'abbiamo fatta L'abbiamo fatta girare troppo Va bene Non fa nulla Non fa nulla Va bene così Ci abbiamo provato Ci abbiamo provato Attenzione 89 Dicono Stevens Che cazzarola fai Stevens No vabbè Se ne va a funghi Meno male Ok dai dai Tre minuti di recupero Signori Magri Sei tutti noi Magri Portatela da quel lato Dalla banderina Magri Fai qualsiasi cosa Basta che non gli fai prendere Palla a loro Grande Magri Che si prende un fallo Bellissimo Grande Magri Grande Magri Con calma Con calma Giochiamola lì Giochiamola lì Giochiamola lì Bravo Tre minuti Albitro è finita Albitro è finita Albitro è finita Albitro è finita Bella conclusione Bella conclusione È finita signori Dai così Turno passato Bello 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 Dai Dai Abbiamo giocato bene Abbiamo giocato bene Signori Gol di Aladino Che ci ha portato avanti Nel turno Non vi invitiamo di fare le interviste Mi seccano troppo Li abbiamo presi a pallonate Noi Pensavo che finisse Decisamente al contrario Invece Li abbiamo presi Noi a pallonate Offerta per il trasferimento Signori Fermi tutti Fermi tutti Cosa sta facendo Aladino Mamma mia Che brutta immagine di Aladino Vediamo per chi è L'offerta di trasferimento Aladino No 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 380 per Aladino No No Mi dispiace Aladino Quest'anno almeno Non lo possiamo vendere C'ha ancora 27 anni Un ottimo giocatore Aladino Che l'ha sbloccata lui Va bene che Stiamo cercando di far crescere Scott Ma Aladino Ce lo teniamo Andiamo avanti Fino alla prossima partita Di campionato Che non so di preciso Contro chi sia Va bene Contro i Blackpool Signori Che è quinta in classifica Noi siamo sedicesimi Siamo messi male Dobbiamo iniziare A macinare punti Per risalire in classifica Va bene signori Detto questo Io vi ringrazio Vi ringrazio per guardare questo video Vi ringrazio per il like Per i commenti Per i suggenti E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao 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 Stop